...interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge numero 881 sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 249, senatori votanti 248, maggioranza 123, senatori favorevoli 167, senatori contrari 78, senatori astenuti 3, il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del disegno di legge numero 981. Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli del disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente nota di variazione che sarà trasmessa al Senato non appena possibile. La quinta commissione permanente è sindora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea. In attesa della presentazione da parte del Governo della nota di variazione al bilancio, sospendo la seduta. La seduta è sospesa.